Amici di YouTube ben trovati da Marco Ligori in questo video con grande dispiacere comunichiamo un grave lutto a seguito di un tremendo incidente, perde la vita, il famoso sportivo, il talento dello sport mondiale, appena 17enne, perde la vita in un grave incidente d'auto, un incidente d'auto che poi era la sua grande passione, la storia che narriamo oggi proveniente dal Messico, è davvero incredibile, una storia che tocca le corde del nostro cuore, quello che è successo a Federico Gutierrez Hoppe scomparso a 17 anni, grande promessa della NASCAR, Federico è morto in un incidente d'auto sull'autostrada che collega Toluca a Valle del Bravo in Messico, il fratello Max al momento è in terapia intensiva a Città del Messico. Amici di YouTube io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video. Grazie.